Oggi parliamo di intelligenza. E' stato abbastanza sbandierato l'articolo intervista di Samantha Cristoforetti, credo si dica, l'astronauta orgoglio nazionale, la quale dice qualche cosa di molto semplice che dicono in molti. Io credo nella scienza, non credo nelle fake news. Ma secondo voi c'è qualcuno che non crede nella scienza e crede nelle fake news? Bisognerebbe allora chiedersi, qual è il livello di intelligenza che ti fa affermare una cosa simile? Perché non c'è dubbio che la Cristoforetti sia intelligente. E' finita in orbita, è stata scelta tra chissà quanti candidati. Quindi l'intelligenza cognitiva è un aspetto la quale diventa pericolosa senza un'intelligenza creativa, un'intelligenza emotiva, un'intelligenza intuitiva, un'intelligenza spirituale, un'intelligenza potremmo dire integrale. La scienza. Non voglio tediarvi facendo discorsi molto profondi, perché non è questa la sede. Ma guardiamo quante incoerenze ci sono in questa semplice affermazione. Primo, questo separare, questo dividere, questo rinforzare, questo fossato che si sta creando tra le due fazioni, credendo e rinforzando il fatto che ci siano solo due fazioni, quelli che credono nella scienza, quelli che hanno fiducia, quelli che anche fanno le cose per il bene degli altri e quelli egoisti e creduloni. Questa narrazione è veleno, questa narrazione è un virus sparso da tutta l'informazione mainstream. Non esistono, cara Cristoforetti, due visioni contrapposte. Esistono infinità, esistono mondi oltre la tua conoscenza. Sai cosa dici quando parli di scienza? E credi che la scienza sia quella lì? Vogliamo citare due frasi di Einstein? Non sono arrivato alla comprensione delle leggi fondamentali dell'universo attraverso la mente razionale, cioè attraverso quella mente che divide questo o quello, buoni o cattivi, scienziati o approssimativi, fedeli delle fake news. Non è così semplice. In più, Einstein, ci siamo sbagliati sulla materia. La materia non è energia. La materia è spirito ridotto al punto di visibilità. Albert Einstein. Dimmi un po', i tuoi scienziati. Quanto considerano questi dati di fatto, queste evidenze scientifiche? E adesso ti dico quante scienze esistono. Perché scienza è una conoscenza che fornisca garanzia di validità. Scienza è se vuoi conoscere quello fai così e io ti sostengo e ti dimostro come fare così e poi espongo quello che ho fatto alla comunità in modo che possa verificarlo. Non è la scienza dominante che considera la materia materia e che considera lo spirito un vezzo di pochi invasati o qualche cosa da chiudere nelle chiese. Ti stai sbagliando? Quando dici che credi nella scienza, credi in una scienza, quella dominante. Per esempio, credi per caso nella Essential Science di Charles Tart o nella scienza integrale di Ken Wilber o nella scienza in prima persona di Maturano e Varela o nella scienza della complessità o nella scienza che parte della teoria generale dei sistemi di Bertrand Laffi o nella cibernetica di Weiner o nella termodinamica del non equilibrio. Credi forse nella teoria delle cellule automate di Von Neumann? Credi forse... Aspetta, eh... Alla teoria del caos di Garnet o alla dinamica della teoria di Facebook. Senti cosa dice Bertrand Laffi La scienza non è un'utopica riduzione di tutte le scienze alla fisica e alla chimica leggi alla genetica ma è il riconoscimento delle uniformità strutturali cioè delle regolarità, di modelli dinamici ai differenti livelli di realtà differenti livelli di realtà vuol dire che non esiste solo la gente è patogeno e la medicina che lo cura esiste una complessità molto più vasta esiste un'intelligenza in grado di coglierla e allora cari immaginati cari voi che vi sentite in minoranza oppure anche voi che si sentite dalla parte della maggioranza dei giusti